Ora parliamo di sport, di calcio della Coppa Italia di Serie C. Pescara-Olbia è il match in programma questa sera alle 20.45, una gara ad eliminazione diretta e in caso di parità al novantesimo minuto si passerà ai tempi supplementari e poi ad eventuali rigori. Il Pescara, guidato dall'allenatore Gaetano Auteri, potrebbe scendere in campo con la formazione 3-4-3 e avere Sorrentino tra i pali, Lanes, Trudi e Frascatore nel cuore della difesa, Zappella, Enzita sulle fasce, Pompetti e M. Musciai nel cuore del reparto nevralgico e davanti Bocic e Dursi a supporto di Marilungo. A disposizione ci sono Di Gennaro, Ingrosso, Cancellotti, Rasi, Busellato, Valdifiori, De Marchi, Di Grazia, Galano e Ferrari. L'olbia di Massimiliano Canzi potrebbe optare per il 4-3-1-2 con Ciocci tra i pali. A veda, La Rosa, Emerson e Travaglini in difesa, Giandonato in cabina di regia, Occhioni e Lella, Mezziali, tra le linee Biancu, alle spalle del tandem, Magazzo, Udo. A disposizione, Van der Want, Boccia, Renaud, De Marcus, Pisano, Belloni, Chierico, Lino e Pinna. La partita sarà diretta dall'arbitro Domenico Leone di Barletta, assistenti Cecchi di Roma 1, Cattaneo di Foggia, quarto uomo Petrella di Viterbo. E subito dopo il match su Rete 8 Sport, sul canale 11 del Digitale Terrestri, potrete seguire tutti i commenti nel corso della trasmissione che sarà condotta da Massimo Profeta. e c'è una novità che riguarda lo sponsor del Delfino. Dalla prossima stagione, sulle maglie dei Biancazzurri, ci sarà il logo dell'azienda La Molisana. Grazie a tutti.